Ok, gioca. Il protofinale potrebbe essere differente da questa demo. In questa demo non sarà possibile effettuare i salvataggi. Allora, l'epidemia si è diffusa. C'è impressionante, un po' come... Ah, così? DvdR... Che ha detto? La signorina? Come si chiami? Sai che è un membro dell'elite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Qualcosa come Valentine. Jill Valentine. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del platone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere il civile. E non si è messo molto bene, direi. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata. Tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Va già bene che la città... Il mio futuro ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazio il tuo datore di lavoro per questo. Eh sì, eh. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo fare... Eh, allora spoiler, ma non ho capito. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da solo. Ci penso io, ci penso. Cioè, ci pensa lei, perché... Vabbè, hai capito, no? Ci sto, dai. Capito? Gabbè, lì c'ha lui. Averceli, però... Cioè... Eh? Superstar. Ok. Vabbè, non ti cazzare. Ok. Salgo al piano... Quindi... Siediamo di... Di qua? Ah, sul treno... Ah, ecco, vedi. Aspetta. Ah, fico, dai! C'è la data di uscita. Cinema freak, dissi. A parte che ho letto che... Se ci sono le statuette da rompere... Qualcosa del genere. Allora, aspetta un attimo. Ah, eccolo. Ma cosa c'è, eh? L'articolo giornale scandalistico. Sfoglia. I cani di me sono tra noi. Ok, chiudi. Mi interessa. Gil, sono ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrai fare? Devi prima ripristinare la corrente. Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. No, vabbè. Cioè, raga... Cioè, raga, il... Non so se si vede bene, ma... Qua c'è il palese, palese poster di Top Gun che si chiama Air Combat. Invece che Tom Cruise, Tommy Clooney. E con Kerry Gageshi. Vabbè. E questo? Command Team Mars Guzzlies of... Ma che cazzo? Disaster qua, altre robe. Time to get started. Sudden death boiling. Wolf of the battlefield. Ma che roba è? Vabbè. Ah, aspetta un po'. Povera sparo. Aie. Aie. Cazzo, povera sparo però. Successivo. Ok. Di nuovo. Pianta verde. Aspetta. Qua? Cos'è? No, niente, eh? No. Trovata. Sono quelle le cose da... Le piante, le piante verde, le piante verde. Sì, 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 sì. E una trovata. Oh. Quindi? Ah, probabile, probabile. Ma mai hai detto che c'era un po'? Vabbè, c'è una sola polvere da sparo, comunque. Aspetta, per accedere al... No. Ma che si accede al... Badab? Combina. Pico. Pico. Tac, tac. Qua non c'è niente. Quando mai? Su quella scatola, eh? Ma cosa? Ah, ha rotto il... Cos'è? Ah, questa! Con... Con che cosa si... Aspetta. Eh, vabbè, ho sprecato un coso, vabbè. Ripperoni. Vabbè. Con... Eh, ma... Eh, ma... Ah. Eh, è giusto. Che cazzo è che... Ah, il pad che... Che qua che si... Si cosa. Ok. Vai. Merda. Ecco il... Il coso di... Che bisogna rompere. Ci sono quei cosi lì. Estrai e spara. Estrai e spara. Mori, merda. Mezzo di merda. Qua? Niente. Macello. Eh... Proviamo di qua. No. Qui neanche. Niente. Bisogna andare per forza nel vicolo. Per forza di cosa, eh? Qua non si può andare. Che schifo. Che schifo. Cazzo. No. Eh, dai. Muoglio spupazzato la testa, puttana Eva. Che schifo. Che paura. Aia. Dai. Tacci tua. Coltello. Dai. Eh, dai. La mattina. Eh, ma allora sei stronzo, eh. Allora ti sparo. Oh. Eh, infatti, madonna. Aspetta che mi devo curare un attimino, eh. Combina. Tac. Mi sciogliate. Attenzione. Usiamo... Usiamo questa che... Ci basta. Ok. Eh... Eta, sono la schivata, cazzo. Ci voleva... Questo? Scherzavo. C'è il sopralliquidatro, lì, cazzo. Che paura. Aspetta, eh. Eh, credici che ti venga... Ok. Ora la sparo. Eh, non so se mi convenga andare lì là. Eh, non lo so. Sottostazione? Sottostazione? Ci devi passare dal vicolo all'abonente. Intendi forse il vicolo in fiato? Forse. Un tipo come te è abituato alle situazioni scontate. Oh, minchia. Grazie. Ah, beh, stai calmo. Cioè, non è che... Eh? Eh, usavo questo? Sì, ma perché c'è il... Cosa? Ah, ci vuole il... Un affare? Ci vuole un... Ci vuole un qualcosa per aprire l'affare. Ma che palle! Eh, ma lo... Sì, ma sto coso vibra sempre. Cioè, ragazzi. E le basta! Scusa, eh. No, aspetta. Sto così esplosivo? Orca puttana! Ho fatto secco il merda, oh. Orco zio. Allora, andiamo... Go cosa, eh? Z главi, eh? Lì, io... Oh! Oh! Ok, check ha! combina a posto di qua non c'è una fava aspetta un attimo qua no qui qui c'è ok questo si il tronchese a posto a posto aspetta non c'è un cazzo di niente che ci interessa dai vai ma si può spegnere la cazzo di musica dai no però mi conviene andare dall'altra cosa dall'altra parte e spegnere il fuoco ciao eh chi è Neo The Matrix mi fa una sega coi piedi mi fa è l'inventario e quindi eh ho capito no merda no non è il tronchese questo cazzo il tronchese ho sbagliato porca troia si doveva andare di là per forza c'è un cosa via nena dai puttana merda via via urca aspetta un attimo è buona dai che cazzo di bing cazzo intanto questa andiamo eh dai eh dai muttana Eva sprecato un botto di colpi questa tagliare qua vai usa cling tacimia vai eh vabbè ciao eh vieni vieni oh puttana la tua schifoso di merda coglione che paura mezzo di merda vabbè dai proiettili qua granata frammentazione tico qua dimmi che vaffanculo scusa eh eh almeno mi rinsavisco questo qua eh eh fermati un po' dobbiamo andare di no 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 vado di qua scusa eh vai così nel dubbio nel dubbio ti amo eh 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 porca marisa l'ho fatto sì col merda oh puttana e questo la manichetta cazzo oh no 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 ci sono per sempre ancora un fucile tirate da catena usate quello ok 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 ecco ecco ai sì ma non c'ho spazio o se no sì c'ho spazio merda merda eh un cazzo c'ha Ravrex l'hai già preordinato che cazzo eh minchia eh cosa mi posso droppare la roba scarto la bomba ah non possono essere recuperati rip lei trovate tutte le statuine te aspetta un po' va eh tua madre che palle eh ho scartato la granata sì questa di qua questi devono essere gli uffici del eh sì allora si vanno male utilizzare il controllo che tratta di percorrere ok vabbè tanto dobbiamo andare tornare là perché c'è dobbiamo mettere la manichetta poi la manichetta diventerà inutilizzabile cioè potrò anche scartarla immagino perché mi servirà solo lì spero tetto già ammazzato anzi porca marisa è buona buona mi ha fatto saltare il braccio scusa ah non è ancora perché se finisci la demo e bechi le statuine malate orca puttana no 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 vai via no 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 merda nemesis scappa porca puttana via oh cazzo cazzo via ebbè vatti dal cosuniii via 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 dai dai va cazzo vuoi 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 vieni vuoi 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 Eh infatti Eh che cazzo Eh stars staffava stars Scusa Scusa Ah No ma grazie 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 Capcom Per questo Questi momenti Cioè vedi se Se tu distruggi Tutte le 20 bumble Che non so Distruttate due Ti danno un Qualcosa Ah quindi finita qua E' sicuro di questo? Andiamo a poter Notte al gioco originale Eh New boo Cioè è già finito Dura meno del Da due Davvero E' rip Ah Ma quanti sono? Di qua Come massimo tre Cavolo Kendo A posto A posto A posto